Pronto sono sempre pronto, bisognerà vedere. Il gol è importante fino a un certo punto, l'importante è la vittoria, quindi che arrivi un mio gol o un gol di un altro mio compagno è indifferente, l'importante è vincere. Anno dopo anno, giocando sempre in quel ruolo, migliori sempre, quindi se sono qua anche a merito di tutte le partite che ho passato, che sono cresciuto e con il mister ho già parlato, quindi deciderà lui dove impiegarmi. Penso solo a far bene con questa maglia che mi trovo davanti e la nazionale è una conseguenza, però prima il mio pensiero va solo al Napoli. L'altro invece si aggancia a quello che ha fatto Massimo Golini, perché tu le hai affrontate praticamente tutte, anche la Juve, ti manca solo la Lazio, ma credo che il Lazio-Sampdoria un occhio glielo avrei dato. Sinceramente, a parte il pensare partita per partita, arrivi a Napoli pensando che il Napoli con il tuo apporto possa raggiungere che cosa, quale obiettivo? Ma no, forse questo non ci penso, perché qua siamo abituati a pensare partita dopo partita, abbiamo una grandissima sfida domenica, quindi abbiamo la testa solo per quello. No, su Insegne mi dispiace quello che gli è capitato, però comunque fa parte anche questo del calcio e l'ho visto stamattina e sta già correndo, quindi ha molta voglia di tornare e non vedo l'ora di tornare a giocare con lui. Il mercato è sempre aperto, in generale, quindi figuriamoci nel mese dove le operazioni sono possibili, quindi in linea di massima non si può dire se e cosa succederà da qui al 2 febbraio, perché appunto il mercato spesso propone alternative e occasioni che magari non avevi preso in considerazione fino a quel momento, però va detto che in questo momento, allo stato dei fatti, gli obiettivi che avevamo in mente e che ci eravamo prefissi sono stati raggiunti, quindi con l'acquisto a titolo definitivo di Strinic e Gabbiadini, il Napoli ha chiuso due esigenze tecniche del momento, ma soprattutto ha lavorato anche per quanto riguarda il futuro, perché sono due calciatori che faranno parte di questa squadra anche negli anni futuri, perciò abbiamo unito alla necessità, diciamo, riparatoria, tra virgolette, del mercato di gennaio, anche un'esigenza di programmazione per il futuro, andando ad acquistare due calciatori che seguiamo da anni e direi anche con una certa tempistica ottimale, dato che il 5 di gennaio a mezzanotte e un minuto abbiamo depositato i due contratti, quindi eravamo, diciamo, pronti all'apertura del mercato con i due colpi che avevamo in mente di fare, poi, come ho detto un minuto fa, quello che succederà da qui al 2 febbraio non lo posso sapere, perché nel futuro le occasioni possono arrivare e lì resteremo eventualmente pronti ad agire. Sulle cessioni? Sulle cessioni fa parte della risposta, cioè dipende da cosa succede nel corso del mercato, può succedere sempre di tutto, in questo momento non è in previsione di far uscire altri calciatori, però non si sa mai, quindi la rosa voi la conoscete molto bene, il numero della rosa è sempre stata costruita così la squadra, cioè con un numero molto limitato di calciatori per cercare di avere sempre tutti attivi e coinvolti nel progetto, abbiamo avuto qualche defezione per colpa di qualche infortunio, quindi far uscire calciatori in questo momento non sarebbe possibile a meno che di altre entrate, perciò dipende dal mercato.